def con 1 benvenuti ragazzi oggi è Nestruccolo 2001 che vi parla ed oggi siamo tornati nelle badwars in compagnia di iFlex ciao non passato assolutissimamente lo suo canale perchè è una brutta persona io ve lo metto tanto per farlo felice però voi non ci passate perchè è cattivo in questa badwars cercheremo di riprendere il ritmo perchè non facevo una badwars da un mese e mezzo sul canale e basta e basta oggi giustamente mi vado a prendere come compagno kree quindi ovviamente o la perdi o la perdi ma allora se sto facendo il ponte di là mi spieghi perchè sei orbo magara che hai al posto degli occhi mi chiamo di pure dirlo eh sordo perchè non si vede non si vede un coso che spunta da una isola no ma io ora non lo sto guardando allora facciami replay vai qui a costruire non si vede ok chiedo una cosa non usate skin piccole ok skin piccole mettiamola sul pericolo esatto logico credo ti ho portato in base 22 diamanti uno stack di ferro e uno stack d'oro uno accaduto con uno stagio tra di te ahahahahah ahahahahah ammazzini ma canto su tutto no 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 ma ce l'ha fatta non barare ma ce la fate andiamo a vedere il meccanismo andiamo a vedere l'ho scopo ma c'è la parola ma c'è la parola dopo barare da partita ma vi spiegate io come dovrei fare a registrare ma io non lo so ma non posso voglio perchè non sapete giocare perchè dovete parare che diranno il premio quando parate madonna oh no vabbè si preseva la roba che c'è tra meccanismo e appunto c'è ma perchè deve giocare a barare che divertimento c'è scusa ma come non funziona più ci scommetto mille euro che sono stati questi qua vabbè la spada aspetto di fuoco allora te distrugga il letto subito 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 eeeh dark eccolo lascio supremo versi verdi lascio supremo che li vedo un po impediti no però raga ma no ma perchè dai che cosa è sono sciso che scusa che ci sono due regole due sono capaci di non rispettarne neanche una questo qua le ha distrutto il punto spawn a sto ragazzo di questo team due regole ci sono due contate due non ce la fanno a non rispettarle c'è una cosa incredibile vuol dire che devo mettere la bedrock perchè vabbè dobbiamo fare del berlors anti quanti citero non ormai lo ha messo il letto o no io a questo punto gli ero distruggo no 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 e all'altro team dicevo ormai gli ero distruggo perchè tanto non sarebbe stato giusto no no perchè c'è sovilla c'è grazie per la nuova una visita rispettiva specchi ricerca di difenderla era una visita di ispezione dove cri come ci si andava con un piccone ma dove quelle basso ma dove quelle basso e poi via a fare roba vabbè questo mi prende per il culo comunque perchè quel ragazzo continua a cadere povero ciao no mi ha attaccato il suo virus di cadere no no il piccone è un virus che ti fa cadere senza che tu te ne accorgi incredibile ok ma io metto qua né qua dentro prototleta di tralla alla polona se io qualcuno ecco eccola ecco che è stata acc OTTO 1 dai dove da noi a me non riesce da uno eh bello tutto lo cazzo è un bel giro giro tondo ok tranquillo non ci può conquistare nessuno giro giro tondo giro tondo è davvero tondo abbandonato mi dico perchè abbandonato perchè li stanno suicidando e mi suicido pure io no grigio è stato bellissimo quello la gli stavo facendo il giro giro tondo quella tipo non lo so sei arrabbiato perchè non mi riuscivo a prendere acquittato allora tu con questa tattica bellissima ora mi devi spiegare come devo far apprendere gli scambi dai villager sentito oggi ecco qua genio no basta non mi prendo più mi hai offeso ma che è ma come cammina quant'è fa piglialo piglialo grigio come pezzo cammina vai 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 lasciamo i gialli lasciamo i gialli che non ci sta nessuno di loro con l'armatura ehm ah se vuoi tu vuoi tu io rimango a proteggere la base ok perfetto perfetto perchè tanto l'altro sta dai blu no per ora si fa la spada col fuoco perchè è qua boh mi blocchiamo e' un po' di vita aspetta compa vabbè manco sono accorto bello che è un po' di fatto che uno stupido è un po' di giallo che si fa la spada colore e' un po' di giallo che è un po' di giallo forte ma non c'è vabbè ma non c'è vabbè ma non c'è енно pagata.it parto 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 detto da verdi distrutto ha una certa varietà di info ok no 19 barrile ichaba a non t entrepreneur ock lo ce qui l'altro quest'anno occupato di dover attendere il letto scelta nell'occupato ma va 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 ma morto ma veloce un po c'è luce ma dove stanno loro non sto qua non è a questo che è a questo ma non mi dirà rispada da me ma la bussiamo il bussieri anche dove anche durante sono quelli aspetta mannaggia già la sessione di velocemento non sono la loro basi resti ma non lo so quanto la rosa quando io posto a capire il letto io sto arrivando vabbè ragazzi sono usciti in due locale vabbè ragazzi per questo per sé tutto mi ricordo di lasciare un ecco come ti scelta che la del xe cr tutto bello bubba bubba con 1 i